Eh sì, manca tanto Pescara nel panorama della Palla Nuoto italiana, ha vinto tanti scudetti, ha rotto l'egemonia del Posillivo, del Savona negli anni 90, è stata campione d'Europa e soprattutto ha giocato forse il miglior giocatore di tutti i tempi della Palla Nuoto che risponde al nome di Manelle Stiarte. E' un vero peccato, mi auguro che ci siano le condizioni nel prossimo futuro per rivederle in Serie A perché ha cultura sportiva questa città, ha cultura palanotistica e soprattutto è dotato di un impianto che è bellissimo, sia il Palla Nuoto al coperto che la piscina scoperta possono contenere tantissimi spettatori e quindi mi auguro che possa la Palla Nuoto ad alto livello ritornare qui a Pescara. Siete qui in Abruzzo per preparare le Olimpiadi di Rio, che Italia si presenterà in terra sudamericana? Un'Italia sicuramente intraprendente, un'Italia che sa quello che vuole, che sa che il percorso olimpico è veramente sempre molto difficile, molto competitivo, ci sono tante squadre che lotteranno per il titolo o per il podio e tra queste ci saremo anche noi, andremo con grande disinvoltura, senza grandi pressioni ma con tanta voglia di far bene. La condanna tra virgolette dell'Italia è sempre quella nella Palla Nuoto come nel calcio di dover vincere? Questi sono luoghi comuni, non è che si può sempre vincere, certamente noi entriamo in piscina sempre con questa ambizione, tu la devi avere questa ambizione, poi ci sono anche gli avversari, sono anche molto molto forti, forse anche individualmente più forti dell'Italia. Dobbiamo fare qualche nome per esempio? Serbia su tutte, poi Ungheria, Croazia, Montenegro, Grecia, Italia, Stati Uniti, Spagna, ecco ti ho detto sette squadre che saranno competitive per i giochi.